Mio nonno mi raccontava sempre che le masche erano in grado di spostarsi da un luogo all'altro in brevissimo tempo. La leggenda narra che un ragazzo di Fondovalle, che usciva come una ragazza del posto, una sera decise di fargli una sorpresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.